Ucciso davanti alla moglie nell'anniversario di nozze, gli investigatori puntano sulla vendetta mafiosa. Questi i titoli dei quotidiani di quel periodo sull'omicidio dell'imprenditore. Una prima inchiesta a carico di ignoti si era conclusa con l'archiviazione, poi alcune dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avevano portato alla riapertura del caso. Per ben due decenni l'omicidio di Diego Passafiume, 41 anni, era rimasto risolto solo parzialmente. Il 22 agosto del 93, giorno del suo anniversario di matrimonio, era stato ucciso mentre era nella sua auto con la moglie, la cognata e la suocera. Fu raggiunto da tre colpi di fucile, uno di questi lo aveva raggiunto in pieno volto. Un omicidio rimasto per anni con un movente ma senza responsabili. Già subito dopo il delitto venne privilegiata la pista dei subappalti. L'imprenditore era ritenuto scomodo dalle cosche per non essersi piegate le regole imposte dalla mafia sulla spartizione dei subappalti nel settore del Movimento Terra. La svolta nelle indagini avvenne nel luglio 2017, quando alcuni parenti della vittima, testimoni dell'omicidio, avevano riconosciuto il killer grazie ad alcune fotografie. I carabinieri sono così arrivati a Filippo Sciara, grigentino, 54 anni, affiliato alla famiglia mafiosa di Siculiana, coinvolto anche nel sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo. Adesso per lui l'accusa è di omicidio premeditato con l'aggravante di aver agevolato la mafia.